Oh, mi ha tagliato le ucce, guardate, mannaggia che risposto, ah, mi fai male, ma se diciamo che vuole? Ma come che vuoi? Mi ha sentato molto nelle coste? Ma tu sogni, mi fa, si sa con che ti vedo. Ma che è sostruzzo? E' tornato, oh, ecco lì, l'inglese, oh, che bello, fammi dormire con tempo qui, fammi dormire, mannaggia, ma buongiorno, guarda che bel pennello che ti consiglio. Guarda, 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 non sei contento? Un secco di coglione, queste struppe, va che una bella sorta, no, con me. Che si fa? Ma ti vedi lì, porca, ma che si fa? Ma che si fa? Guarda il cazzo, perché ti vogliate? Che si fa? Madonna, no, 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 no. Attenzione, il VAR si è consultato. Espulso. No, fa un culo. Espulso, fuori, fuori. Il VAR, guarda, fortuna son tante ste madonne che ancora reggono. Fuori sono più di 30 gradi, sembrava una giornata zero nuvole, invece sta nevicando, guardate come nevica. Sotto c'è anche il burro, qui c'è ghiaccio e neve. Oh, basta mettere neve con stamani. Ghiaccio e neve, sta nevicando, incredibile, guardate come nevica, guardate quanto sta componendo, componendo, la sta facendo a fiocchi giganteschi, ancora neve, ancora, sempre più neve, guardate che pagliaio di pasta nevicata. Mi metto la te roppi con io, non ce ne metto più, sa. Le minacce sulla neve pure.